stasera si va a singapore prevedo una gara molto dura molto difficilmente arriveremo al traguardo raga perché singapore mi ricordo che è stronza come pista prima di cominciare andiamo a fare un recap della situazione il nostro calogero botta se primo in classifica 240 punti primo su max verstappen a ben 22 punti di distanza poi c'è valteri bottas il cuginetto a 199 norris a 172 ricciardo a 136 luis hamilton a 133 questi suoi primi bell'uomo del sabato si ma oggi non ci sarà sabato ragazzi come uscimo per fare un altro tentativo in questo momento siamo siamo secondi ma stavo a rallentare stavo a rallentare mancano tre minuti ti ho chiesto ma ti ho chiesto ti ho chiesto quanto manca non mi pare no porca Eva porca Eva per non dire un'altra cosa guardate questo ma te devi andare a schiantare un arbero rispetto alla sveglia che gli abbiamo ammollato a verstappen a monza ce l'ha ridata con gli interessi ma stasera lo sapevo che era dura raga perchè sta pista a me non mi è mai andata giù no ma te sento proprio bassissimo box si i box hanno il microfono vinto raga in realtà c'hanno praticamente sapete quando da ragazzini facevate il gioco col barattolo e il filo raga loro parlano col barattolo un po' rilassato dai non appena ci ostri siamo perse solo due solo due incredibilmente solo due ok ok cerchiamo di gestire un attimo qui la situation iniziale stiamo dietro a Lonzo poi c'è Gasly vedo lì davanti il cuginetto Valtteri che c'è ho? non è che stavo lontano apposta io attenzione che per questa parte gli stiamo vicini effettivamente Alonzo fa il bravo fa il bravo ok lo fai sembrare facile ma mica tanto veramente Alex ok sono due stagioni che questo mi dice la stessa cosa madonna che liscio ho fatto un liscio clamoroso raga se ne vanno se ne vanno raga sono lento non c'è un cazzo da fare se vuoi posso provare a fare l'undercut fin di dire tra le box e tra le medie che ne so io siete voi box ragazzi io le strategie ce capisco quanto di fisica quantistica questo questo entra entra ok box 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 insomma quando sta entratta i box dei clienti che fanno? ma il cartello sta prima ma l'entrata sta dopo cioè questi non sono normali sì e dopo l'entrata ma vaffa eh sono riuscito a andrò stavo con giro di niente bello che sorpasso anzi veramente sono riuscito di aero a andrò stavo perchè il gaslim mi ha passato e che me faccio tirà? un bagno di scuderia 9,9 secondi guarda che se faccio un'altra curva così quello me tira il casco dalla macchina perchè ho rischiato di ammazzarlo casli e dai su siamo risuccessi qui un'altra volta non c'è prova eh non c'è prova t'ammazzo durante la gara durante il sorpasso Calogero ha fatto vedere il cricca a gaslim ricciardo mi ha fregato il giro veloce o ricciardo poi che c'entrava col giro veloce o sa solo lui ora ti trovi in nona posizione grazie Alex ma solleggio ancora ci stiamo avvicinando a quelli davanti che c'è stato il nostro cuginetto effettivamente avevamo ripresi eh raga non pensavo stanno tutti qui davanti raga il problema è che quando c'è stato il trenino qui superare è un bel problemone tanto per la stampa ne snocciola a giri veloci come se non c'è fosse in domani questo TRS è utile quanto un'aspirapolvere per levare la porvere dalla sabbia armare devo riuscire a rimanere vicino qui eh ma c'è là pure lui il motore attenzione purtroppo ragazzi è arrivato il momento in questo punto della gara Calogero Bottas rieschia di rovinare definitivamente la stagione in tre curve riusciamo a buttar fuori Norris buttar fuori Gasly distruggere la macchina e soprattutto andar lunghi a una curva dove ritorna indietro insomma potrebbe essere l'errore che ci costerà la stagione cazzo strategia alternativa a disposizione sul DMF non è stata una gran manovra in effetti ragazzi sentimo come va la macchina ma eh questo non ci voleva proprio ragazzi un po' particolare come sorpasso non era un sorpasso ragazzi quello era un tentativo d'omicidio porca cazzozza ho tirato veramente troppo a staccata veramente questo è il primo grosso vero errore della stagione dei Calogero Bottas ragazzi danni auto come cazzo si dice se c'ho i danni stato vettura capito d'accordo ma che ha capito capito d'accordo che non ho capito manco io capito d'accordo lo ha capito condizioni veicolo questo è stupido stiamo vincendo il campionato si questo mi ha detto che attualmente stiamo a vincere il campionato oh ma i box che vi siete fatti in quartino di video ho detto condizioni veicolo cazzo porca puttana porca puttana per parlare con sti coglioni dei box ma va a fanculo ok direi che la gara è bella che è andata ragazzi ma va a fanculo loro i box gli chiedo come sta il veicolo mi dicono che stanno a vincere il campionato mi stanno a pia per culo accudati agli avversari stai restando troppo indietro ma che vuoi sapere quante parolacce conosco alex no così per sapere la tivi c'è una penalità non so da che la tivi una penalità c'ha dovrebbe avere proprio in generale a prescinde che cazzata ragazzi ho fatto proprio un grosso grosso errore stavolta è grosso perché se ti ammazzi durante il giro casa e fd gara e ti giri da solo te passano tappi in del culo diciamo detto in termini tecnici penso di aver compreso nonostante il linguaggio tecnico hai vinto però grandi grazie ragazzi ecco invece di attaccare la tivi mi sono fatto fregare da gioinazzi ma non gira ragazzi è impossibile eh purtroppo sono a chicane mobile raga non va sì ma comunque non va manco per dritto sta macchina cioè ho capito se è rotta l'ala ma che mazza mi supera così insomma mi pare eccessivo vado ai box e prendo il giro veloce non dare gas che veleno raga ma è proprio calata guarda per me non ho riavviato tragedia riavviamo free è vero raga veramente è stata una tragedia sta gara calogero non ha sbagliato niente tutta la stagione sta gara ha recuperato fai attenzione alle gomme adesso devi finire la gara con il treno attuale eh che dici già però fa un giro Alex certo una volta che direi una cosa intelligente te fanno un annuncio al telegiornale porca sta a pensare cinque minuti è finita la gara sta a pensare tra cinque minuti vabbè il giro ci diamo levato almeno dai raga è la fine della gara ci vediamo nel parco ma vaffan che brutta gara ragazzi sono veramente deluso scusate box oggi n'era proprio giornata ma vaffanculo ma dovete pure questo che surta mo' che meno eh Verstappen ci ripassa ragazzi tre punti di vantaggio per Verstappen su calogero Bottas e soprattutto si avvicina anche Valtteri che va a 36 serve a dare un po' di brio al campionato ma chi è se il campionato vince perché se il campionato vince serve a piatta l'undercull grazie a tutti